Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video. Oggi ci troviamo sempre nella bellissima città di Jena ad un festival molto molto speciale, sarebbe il festival della carne. Che cos'è il festival della carne? Ci sono un sacco di stand che vendono prodotti dove l'ingrediente principale è proprio quello, la carne. Dove si fa esattamente questo festival? Beh, si fa in un piccolo parchetto che in tedesco si chiama Der Garten, che sarebbe il giardino, ed è letteralmente 2-3 minuti a piedi dal prater, il famosissimo prater di Vienna, che vi sto mostrando sulla mappa adesso. Questo festival si fa ogni anno. Io logicamente già sapevo cosa volevo mangiare e come primo piatto che mi sono preso è il pollo fritto sopra un waffle americano con lo sciroppo d'acero sopra. Ragazzi, era qualcosa di fantastico. Con un'impanatura croccantissima, la carne all'interno era qualcosa di eccezionale, molto molto morbido. E poi con quel sciroppo d'acero sopra faceva... era proprio una combinazione perfetta di quel gusto dolce salato. Poi dopo volevo un bel viustel enorme all'americana, quindi mi sono fatto fare un viustel con sopra il chili americano e il formaggio cheddar. Ragazzi, questo era veramente qualcosa di eccezionale, me lo sono mangiato in secondi. Ma dopo tutto questo volevo assolutamente qualcosa di dolce. Ho trovato un altro stand che faceva biscotti enormi, cosiddette chocolate chip con i pezzi di cioccolato all'interno, enormi, in una pentolina piccola lo cucinavo direttamente lì davanti a te, con il gelato alla vaniglia sopra e poi ricoperto completamente di sciroppo d'acero. Era qualcosa di fantastico. Quindi ragazzi, se vi trovate a Vienna e volete sapere più informazioni di questo evento, vi lascio il link nella descrizione in basso. Però come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale perché io posterò tanti video di... insomma cibo, non c'è altro di cui voglio parlare in questo canale. Quindi ragazzi, grazie per aver guardato il mio video e ci vediamo alla prossima.